Ogni anno sulla Terra milioni di persone si spostano da un luogo all'altro del pianeta e l'impatto con i luoghi e le comunità visitate è pesante. Sprechi di risorse come l'acqua, tradizioni locali che diventano merce per turisti, inquinamento, turismo sessuale su minori, perdita dell'identità locale. Senza un cambiamento nel nostro modo di viaggiare, numerosi patrimoni ambientali e culturali rischiano di scomparire, per sempre. Esiste un modo di fare ed essere turisti e viaggiatori senza lasciare traccia? Sì, esiste e non solo è facile ma è anche bello. Informandosi prima di partire, rispettando l'ambiente e chi lo abita, utilizzando i trasporti locali, entrando nella realtà autentica del paese, senza accontentarsi di osservare solamente la sua facciata esotica, usufruendo delle strutture locali offerte dalla comunità e non ciò che è frutto del trapianto forzato della nostra cultura in un altro paese. Cercando di capire che i nostri comportamenti in un'altra cultura possono avere altri significati, richiedendo, in caso di viaggio organizzato, una maggiore trasparenza del prezzo. Un modo più attento di viaggiare può diventare un nuovo modello di sviluppo, ma soprattutto può dare molte più soddisfazioni. Ti senti creativo? Aiutaci a diffondere questi valori. Suggerisci la giusta direzione, accendi la lampadina, porta alla riflessione. Partecipa a From Cool to Good, la campagna sociale a favore di un turismo più consapevole, sostenibile e responsabile. Vai sul sito di Hermes, iscriviti alla community e partecipa alla gara. Crea un video o un'animazione di non più di tre minuti e invialo! Metti la testa in valigia e parti! Regolamento completo su www.hermes.net slash from cool to good www.hermes.net slash from cool to good to good